Salve a tutti amici e amici di Mister lo Sport e Blogger Facciamo questo video per commentare la debacle del Napoli in quel di Barcellona Purtroppo, dico purtroppo, il Camp Nou è come lo Stadium Sai già quando vai a giocare lì a Barcellona che parti 1-0 per il Barça Ma a prescindere, perché qualche cosa li possono dare Perché il primo gol di Langley, secondo me, e non soltanto secondo me È viziato da una spinta dello stesso Langley sui difensori del Napoli Quindi, ma a parte questo, il Napoli era partito bene Poi è stato letteralmente travolto dallo show di Messi Che si è procurato un rigore, ha fatto un gol bellissimo seminando l'intero Napoli E segnando da terra, poi ha fatto un gol che gli è stato annullato E poi si è procurato il rigore Che Suarez ha chiuso la partita, ha chiuso letteralmente la pratica Poi è stato dato un rigore al Napoli per farlo su Mertens E Zin ha trasformato il 3-1 Che è il risultato definitivo Ma, sinceramente, dal Napoli mi aspettavo un po' più di bestialità L'Arino Gattuso che ne aveva da vendere Ma più di tanto il Napoli non poteva fare Quindi, onore al Napoli perché ha già fatto il suo Fermando il Barcellona in casa Sul 1-1 Poi si sa, quando vai a Barcellona Qualche cosa per loro gli danno E quindi, più di tanto non poteva fare Mi hanno deluso, sinceramente Coulibaly, perché se questo è il difensore che deve essere pagato 100 milioni Come vuole De Laurentiis Dopo l'immondizia di stasera Forse è il caso che si stia zitto Perché ha fatto peggio di Varane con Real Madrid Che è stato uno scemo Quindi forse ADL farebbe meglio a tenere la bocca chiusa Perché se Coulibaly, visto stasera, vuole 100 milioni Sinceramente Perché è sembrato palese di concentrazione Ma soprattutto ha regalato un rigore al Barcellona Calciando Messi E facendolo E regalando un rigore al Barcellona Per il resto non ha giocato bene neanche Mertens Non ho visto bene Insegna andava a sprazzi Cagliaconi ne si stende Ha fatto più Minic in 20 minuti E non chi giocava titolare come in attacco Minic ha giocato molto meglio E si è difeso bene Mario Rui Bene Fabio Ruiz Ma sinceramente ribadisco Dal Napoli più di tanto Non ci si poteva aspettare Non ci si poteva aspettare Fa specie Ribadisco che è rimasto solo Ribadisco fa specie È rimasto solo l'Atalanta A rappresentare l'Italia col Paris Saint Germain Un impegno proibitivo Ma Viste gli infortuni da una parte all'altra È una partita mozza Però 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 Se l'Atalanta riesce nell'impresa Vuol dire che veramente il calcio fatto da Gasperini È il calcio che dobbiamo fare tutti quanti in Europa È ora che ci svegliamo Per evitare immondizie Per evitare figure di merda Che continuiamo a fare Perché se dovesse andare male anche Atalanta e Inter in Europa League Sarebbe la solita immondizia italiana in Europa Che vede soltanto il milanista Perché quando escono gli altri Parlano di stagione positiva Quando esce il milan dall'Europa Parlano di fallimento Ma questo lo vediamo soltanto noi Ma ci vedrà una svegliata Perché il calcio italiano Continua a essere Il più arretrato di tutti A livello di congezione di gioco Ma Visto che stiamo in tema Parliamo E chiudiamo questo breve video Dell'immondizia Della notizia del giorno Ovvero Del Pirlo Come nuovo allenatore della Juve Via Via Pirlo Dall'All of Fame Del Vilan Per quelle dichiarazioni oscene Che ha detto sui nostri colori Pirlo ha vomitato merda Da quando è stato Scaricato Da quell'indegno di Adriano Gagliani Ha soltanto vomitato merda Sui nostri colori Quindi Via La All of Fame Via La La riconoscenza dell'All of Fame Andrea Pirlo Per ciò che riguarda La scelta tecnica della Juve Per me Escusivamente per me Mister lo sport e blogger Può essere un azzardo Perché se Pirlo vince L'ennesimo scudetto L'ennesima Coppa Italia L'ennesima Supercoppa Italiana Non gliene frega un cazzo a nessuno Perché Si sa benissimo Che gli uventini Baratterebbero Tutti i trofei nazionali Che hanno Per vincere Quella Meravigliosa Coppa Con le grandi orecchie Quindi se Pirlo Dovesse vincere Il decimo scudetto E fare come Sarri Che non vince Né Coppa Italia E né Champions League Né Supercoppa Lo esoneranno Lo potrebbero esonerare Anche a lui Quindi O Pirlo vince la Champions League O sarà un altro allenatore Un altro traghettatore Un altro passaggio Passaggio a sé Come ha fatto Maurizio Sarri Che è stato Esonerato Il badisco ancora Per tre motivi Per non aver dato Un gioco alla Juve Per lo spogliatoio Che si è schifato Della gestione Dei cambi E soprattutto Perché non è mai stato E mai lo sarebbe stato Un allenatore da Juve Soltanto per l'atteggiamento Per lo stile Per la clavatta Per tutto quello Che alla Juve Bisogna avere E che Sarri Non ha mai avuto E soprattutto Per alcune dichiarazioni Non sembra Ingrini Allo stile Juve Anzi tutt'altro Che lo hanno reso Antipatico Alla piazza E soprattutto Non ha portato Quello che ci si aspettava O meglio Un gioco Perché la Juve Ha vinto un campionato Perché Erano Scarsi gli altri Che si sono suicidati In ver strada E in Champions Ha fatto letteralmente Schifo A Pirlo Non gli si può dire Di vincere subito La Champions Perché È un novellino Quindi penso Questa scelta Di Agnelli E compagnia Sia più Per rifondare La Juve E partire Completamente Da capo Credo Che vedremo Cessioni Eccellenti Vedi 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 Bernardeschi Vedi Bonucci Che Non si sa Se la piazza Lo vuole via Quindi ci sarà Qualche cosa Che lì potrebbe Cambiare Non pensate Che viene Andrea Pirlo E vi porta La Champions League Perché è un novellino E alla prima stagione Ci vuole tempo Forse Agnelli ha capito Sera Anzi domani Video sulla MotoGP Sulla gara Di Di Bernou E video anche Formula 1 Se riesco a vedere in Gran Brevo Perché sono molto Concomitanti Lunedì sera Live Giorno del mio nomastico Su Youtube Quindi spero di portare Più ospiti possibili Per festeggiare Il mio nomastico Insieme a voi Parleremo Di Inter Di Bayern Le Verkuse In Inter Che si gioca Lunedì E parleremo Delle partite Di questa Settimana Europea Che sta andando Verso L'ennesima Immondizia Se vi è piaciuto Questo video Mettete un like E iscrivetevi Al canale Di Mister Lo Sport e Blog Ciao a tutti